Cos'è viscera larva migrans? La larva viscerosa migrante è una condizione medica in cui una persona è infettata da parassiti, come i nematodi, che si trovano normalmente nei gatti e nei cani. L'infezione è generalmente riscontrata nei bambini piccoli, ma può verificarsi anche negli adulti. La larva viscerale migrante di solito scompare da sola senza trattamento, tranne i rare circostanze in cui la condizione è così grave da portare alla morte. Nei gatti e nei cani, i parassiti producono uova. Queste uova si trovano nelle feci degli animali, che contaminano lo sporco. Quando questi animali defecano in aree dove gli esseri umani trascorrono il loro tempo, è possibile la diffusione di larva migrans viscerale. Le uova vengono trasferite agli esseri umani attraverso una varietà di modi, molti casi di larva migran viscerale si trovano nei bambini piccoli perché a volte mangiano lo sporco. Un altro modo di acquisire la condizione, indipendentemente dall'età della persona, consiste nel mangiare verdure non lavate. Quando le uova entrano in un essere umano, si schiudono e viaggiano in diverse aree del corpo come il cervello, gli occhi e il cuore. Inoltre, possono essere trovati in altri organi incluso fegate o polmoni. Le aree in cui viaggiano i parassiti possono determinare i sintomi che un individuo affetto potrebbe esibire. I sintomi della larva migrans viscerale sono diversi se la condizione è lieve o grave. Con infezioni lievi, l'individuo interessato potrebbe non manifestare alcun sintomo. Le infezioni gravi, d'altra parte, potrebbero causare dolore addominale, tosse e difficoltà di respirazione. L'individuo affetto potrebbe anche sviluppare febbre, prurito e eruzione cutanea. Inoltre, un'infezione può anche causare problemi agli occhi, al fegate e ai polmoni. La larva viscerosa migrans presenta sintomi simili ad altre condizioni mediche. Un medico potrebbe, quindi, dover eliminare altre malattie prima di diagnosticare positivamente un individuo con l'infezione. Oltre a un'analisi dei sintomi dell'individuo interessato, un paio di test possono aiutare in questa diagnosi. Ad esempio, un emocromo completo, CBC, può misurare la quantità di globuli bianchi che l'individuo affetto ha nel suo corpo. Inoltre, un esame del sangue può essere utile per identificare l'infezione. Sebbene alcuni individui possano richiedere farmaci antiparassitari, la maggior parte delle persone affette da questa malattia troverà che la larva viscerale migrante non richiede un trattamento. Poiché i parassiti non sono in grado di vivere e crescere all'interno di un corpo umano, la condizione può andare via da sola. Fino ad allora, l'individuo interessato potrebbe fare uso di farmaci per alleviare i sintomi associati.